Mi stavo domandando una cosa, zio porco cementato, ma invece che buttare via tutti quei milioni e milioni in opere del cazzo, in rotonde che rompono solamente i maroni o in dissuasori di velocità o chiamati anche autovelox, zio porco truffaldino, perché invece che spendere tutti questi soldi che quando c'è da fare quelle opere pubbliche imponenti i soldi vengono sempre fuori, zio porco quando c'è da mettere a posto le scuole non si trova mai i soldi, eh? Zio porco truffaldino doppio, abbiamo dei ragazzi che sono costretti ad andare a scuola, specie in una scuola come il Venturi di Modena che era faticiente quando andava mio figlio a scuola, stiamo parlando di ben 35 anni fa, 30 anni fa, non mi ricordo esattamente, e invece che spendere tutti quei soldi inutilmente mettete a posto le scuole che poi va a finire che ne muore un altro di ragazzi e poi dopo alla fine cominciamo con gli indagati, i grandi clamori, zio porco stampato e zio porco annunciato, invece che buttare i nostri soldi nella merda come fate fino adesso, mettete a posto le scuole, zio porco!